a quanti punti sono ora 4108 non è male 4108 è un buon punteggio 4108 è buono non è male che zella infinite erano tutti lì cioè io sono uscito per sparare a quello perché era one shot e uno era sotto di me madonna la zona è lontanissima male 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 la zona così lontana è meglio del mio per ora tanto c'ho la mitraglietta quindi un po' Grazie a tutti 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 25 Grazie a tutti Grazie a tutti